Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi ragazzi siamo nello speciale dei 500 iscritti e faremo un pack opening su FIFA 15 della Madonna, cioè qualcosa di veramente enorme perché comunque mi sono venduto Yaya Touré, Royce, tutti quei giocatori lì e sono riuscito a accumulare 368.000 crediti. Però ragazzi in questo spacchettamento ho deciso di non stare solo, vorrei la compagnia di qualcuno, veramente sempre abbandonato in questi spacchettamenti, ho visto che sono più belli quelli fatti diciamo in compagnia. Oh chi sei tu? Beh oh ti volevo fare compagnia scusami, devi fare il pack opening da solo. Ma non dovevi, cioè veramente. Bello speciale, dovevo assolutamente. Ragazzi questo è il mio cugino, quello che comunque mi presta sempre il pc e lui ragazzi è molto esperto su FIFA perché gioca a FIFA da FIFA 13, sa diciamo tutte le impostazioni, come si gioca ovviamente bene e può essere che porta anche fortuna. Quindi magari possiamo iniziare con questo spacchettamento, siamo sulla web app del pc perché sulla play non era proprio possibile registrare. Ragazzi apriamo il pacchetto e speriamo che Eden Hazard ci purti fortuna e apriamo il primo pacchetto. Noi chiaramente ci apriremo il pacchetto a testa, poi se porta sfiga lo mando via dal palazzo. Sì. Quindi là sta la finestra. Vai Eden, vai Eden. Dai. No. Che cacchio sono questi? Iniziamo con le pippone qua. Che poi di tre giocatori rari ci sono tre cose rare nel pacchetto ma rosa, allenamento rosa, stemma. Perché ce ne facciamo dello stemma. Abbiamo cambiato l'inquadratura perché c'era il pulsante sotto al cellulare e quindi non si capiva una mazza. Conserviamo tutto perché poi mi servono. Sì, conserva tutto e poi scarta alla fine. Scartiamo alla fine quando siamo diventati poveri. Il negozio, dai lo apro io questo qua. Vai 7500 dai. Missi, troviamo missi no? Ovviamente. Come no? Non è così. Non è così. Aspetta. Ronaldo. Vai. Salta. Sì, iniziamo. Iniziamo. Kirichess. Cioè, no io sto giocatore non l'ho mai visto. Che schifo è? Cioè, poi manco un giocatore e poi gli altri tutti. Del CSKA che pure è scarso. Scarso sicuramente. Che schifo. Mamma mia. 7500 subito. Dai, rapido. Vai. Vai, vai, vai. Via. Va bene che non troveremo nessuno. Però... No, va bene. È schifo. C'è la merda. Chi è questa qua, mo? Grazie. Ma chi è questa qua, mo? Oh, Sergio Roberto. Amico tuo. No, aspetta. Questa qui non ho capito bene chi... Oh, guarda quello. Assomiglia... Questa è quella del panificio sotto casa, capito? Sì. Quindi, come si chiama? No, è... Atient. Allora, consideriamo tutto e, ovviamente... Oshino, spacchetto. Vai, eh. Questo la premiamo insieme. Lo stesso dito sul tasto, vai. Via. Aspetta. Vai. Ok. Vai, eh. Ma uno, ma uno. No, vabbè. Pele, dai. Il tarocco, il tarocco. Perché l'altro... Vabbè che su PlayStation non si può trovare, Pele. Quindi, guardate la leggenda. Pele, proprio... Abbiamo trovato una leggenda. Vabbè, una leggenda italiana. Ha fatto un gol di rovesciata. No, veramente. Ok. Allora, ragazzi. Questa volta... Vado a spendere la luce. Perché se noi facciamo lo spacchettamento con la luce spenta, troveremo Cristiano Ronaldo. Giusto? Sì, è giusto. No. Dost. Toast e Dost. No, questo qua lo devi scartare, Dost. Che schifo è? Lo devi scartare. Perché è un toast. Aquilani, la leggenda di Aquilani. Aquilani ancora campa. Non perca. 50 anni a giocare a calcio. Però no, vabbè. Ragazzi... Lo sappiamo quanti anni ha qui. Siccome Dost porta sfiga, lo vendiamo. Lo vendi subito. Subito, quindi. Perché nel club... Fa cacare. Niente. Quindi conserviamo tutto. E magari ci apriamo. Poi io ce l'ho con lo stadio. Fa schifo. Fa cacare. Ragazzi, per spessare un po' la sfiga, apriamo un pacco da 5.000. A uno solo, eh. Vai, vai, vai. Tanto abbiamo un botto di crediti. Ok. Abbiamo il big money. Tanto la merda a noi. Bacca. Bacca. Quindi se voi dovete andare nel bosco, trovate le bacche. E quindi... Ci trovate anche lui nella terra. Eh, con un attenzio di tiro, che non è male, però è una bacca. Quindi fa cacare. E ci conserviamo tutto nel club. Diciamo che è un attaccante completo, però non fa intesa... Infatti. Ah, no, no. C'è un attenzio di... F'è intesa nella BBVA. Però... Appunto. Chi è che se lo mette? Mai visto. Appunto. Fino a quando era buggato, cioè. Ok. Vai, ragazzi. Vai, aprito. Prossimo pacchetto. Vai, vai, vai. Schippa, schippa. Questo, schippiamo. Uh, Nasri. Vabbè, non vale tanto, però sempre un 84 di overhaul. Chiaramente. O Suarez. Suarez. Sì, Suarez. Capavolgiamo il numero. Ok? 97. Anche se non ha 97. No, però... 89. 89. A 78 di tiro. Perché? Ah, 84 di passaggio, senti di Dreamlew. È bravo di posizione, Nasri, però... Questo ce lo mettiamo magari nella rusa del Barclays. Ok. Barclays. Quanto vale? Qua non si può vedere, giusto? Cioè, magari trova Maghiro, raga. Eeeh... Dai, questo l'apri tu. Questo l'apri tu. Dai. Gli occhi non vi do... Spero che non voglio Howard. Giusto. Cambiamo. Sto barbone qua. Sto barbone. Dai, Messi, sì. Dai, Messi. Questo... Questo non lo voglio vedere. Non lo voglio vedere, eh? Dai, Messi. Dai, Messi. Dai, di nuovo mi devi dire che ha trovato, eh? Io non vedo, ma devi dire che ha trovato. Eeeh... Che ha trovato? Ruiz. Chi sono questi? Ce l'avevo pure, forse, Ruiz. Ah, Britos. Eh, sono importanti i contratti. 3-1. Questi sono quelli importanti. Non giocare. I contratti sono importanti. Sì, qua che si scambiano la palla. Palla medica giocano questi. Sì, giocano la palla... Perché non sanno giocare a calcio, giocano a palla medica. Quindi, perché vogliono giocare a calcio? Giochano a palla medica. Britos, la nuova marca di biscotti. Ok. Vai, ragazzi. Conserviamo tutto e passiamo al prossimo pacchetto. Ti ricordo che abbiamo scartato quello là di prima, quindi porterà più fortuna. Giustamente. Questo scriviamo al volo. Vai. Ah, merda. Ma la vuole, ma... Cioè, gli argentoni di merda, ancora. Oh, questo qua, ce l'ho nella squadra lì. Oh, ce l'abbiamo, questo qua. Questo ce l'abbiamo. Ce l'ho, appunto. Infatti, ce l'abbiamo nel club, diciamo. Nel tuo club. In una squadra che vi farò vedere, poi, nella prossima puntata. Fortissimo. Molto forte. Che mi ha fatto lui, e che non la sa nessuno, perché l'ha creata lui, e funziona veramente. Tutta buggata, praticamente, ragazzi. Sì, e io faccio solo la squadra. Vi dico già che c'è Dumbia, Menniche. C'è gente che spende miliardi di crediti per prendersi i giocatori forti, però che non servono a niente. Poi ti prendi sti gusi, qua fai il macello. Vai, dai. No, se io mo' apre il pacco, tu stai parlando. 7500. Troviamo Messi, troviamo Messi, Messi. Vai, Pepe. Vai, vale 2000. E poi troviamo Fatau. Questo, tanto che si è spaventato, è proprio fatale lo spavento che si è preso questo qui. Ma che testa c'ha? Questo c'ha la faccia. La testa è quello che fa così. Quanto vale, Pepe? 3000? 2000. E poi c'è Zapata, di nuovo. Che mi segna di testa, ragazzi. Questo è scesente. Prossimo pacchetto, ragazzi. Vai, vai. Vai, è lui! È lui! Zierer. Vabbè, questa ha presa la saglietta in faccia. Guarda, c'ha la faccia di... Ma c'è questo! Questo fa? Sti allenatori! Questo qua. Io comunque ti consiglio di aprire un argento raro. Giusto così? Un argento raro? Sì. Per buttare i soldi. Un argento raro. 3.500, dai Griezmann. Buonanotte. Dai, dai. Roland, ma chi è sto qua? Questo qua sembra che mi stanno sparando una ventata in faccia. Proseguiamo? Vedi quello, però. Io li scarto tutti. Sì, scarta questo. Cosa non va? Vai ragazzi, altro pacchetto da Euro Premium. Ragazzi, fortuna niente. Un po' di fortuna, che cazzo. Unif. Eh, che mo' sono usciti quelli nuovi? Pogba If. Pogba. Pogba. Dai, è lui. Casco. Ma non mi sembra che tu hai un casco in faccia, eh. Ed è questo qua. Sì, è questo? Ronaldinho rifaldato? No, che è Ronaldinho. Oh, oh, oh. Mille crediti. Mille crediti, siamo ricchi. Molto. Ragazzi, al prossimo pacchetto, questa volta. Io mi metto la manetta qua e non devo vedere niente, perché noi troveremo adesso una potenza estreme. Vai, vai, vai. Hernandez, attaccante del Real Madrid. Elm. Elm è buggato, però con le 65 di velocità e fa schifo. Però Hernandez è buono. Ma Elm c'è una faccia di merda. Hernandez ce la teniamo. Vabbè, del resto come quello a fianco a lui. Questo? No, quella là è... Sta incinta, questa. Sì. Ragazzi, voglio 40 like su questo video. Vai, vai, Pepita. Vai, vai. Questo ce l'ho nella squadra, eh. 7500. Dai. Dai, Pepita. Lo skip. Anche uno, ero raro. Manco uno. C'è, raga. Questo si sta facendo il selfie, guarda. Che è sta maglietta? Del Messico. Beh, è male, però... La mette del Messico. Ma ragazzi, quella fortuna ha niente. No, no, spacchetta tu, spacchetta tu. Niente. La fortuna ha niente. Non schippare, non schippare. Restiamo calmi. E io voglio vedere una carta... Voglio vedere una carta nera. Una carta nera. Dai, dai. Unif. 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 E io c'ho già quella blu, c'ho veramente. Roberto, lo conosci? Roberto, com'è? Un amico nostro. Guardate quanto è sexy, quel ciuffo ha. Dai, dai, proseguiamo subito. Proseguiamo e... Prossimo pacchetto. Vai. Vai. Pepita. Vai, Pepita. Erpipita. Go. Ma dove? Ma che sai? Tipo, mamma mia, veramente. Unif. Di nuovo l'Ami. L'Ami. Al primo pacchetto l'abbiamo trovato l'Ami. Pereira. Fabianschi. Questo sta per tossire, attenzione. No, no, questo qua sta per stannutire. Anche. Vai, vai. Perché abbiamo... Un cacciatore. 7000 crediti. Minchia. 7000 crediti. Capace che ce lo vendiamo dopo, eh. Sì, sì. Conserva tutto nel club. Buonissimo. Io in tutti i crediti che ho sboostato... Ragazzi, via adesso. La cosa che vale di più è un cacciatore. Cioè, infatti. Beh, dai, ci siamo rifatti. Ci facciamo un pacchetto, diciamo. Ci facciamo un pacchetto di cacciatori. Vai, Howard. Sì, Howard. Vai, Howard. Howard, con la sua età che non si sa. Quanto anni ha Howard? Howard. Non lo so. Ragazzi. Oh. Miranda, buono. Doppione. Di nuovo. C'è la Miranda. Che però ha 83 di overhaul. Dai, non è male. Però comunque lo trovi a 1130. Quindi ce lo scartiamo. Oh, Friedel. Quella sembra un pollice. Cosa sembra l'attore? Ah, sì. Bruce Willis. Bravissimo. Ragazzi, abbiamo trovato Bruce Willis. Quindi miliardi di dollari adesso. Mamma mia, di crediti. Conserviamo. E ci vediamo mirando. Mirando. Perché ce l'ho già, quindi. Dai, ragazzi. Prossimo. Vai, vai. Messi. Vabbè, Messi. Beh, ragazzi. Giriamoci. Dai. Pronti girare. Non c'è riflesso all'armadio, eh. Pronti girare. Che cazzo ti giro? La stella del Borussia, Sancio. Del Borussia. No, vabbè. Astori. Ragazzi, che schifo. Astori, proprio. Kuke. Kuke cool. Kukaina. Kuke. Il... Il tarocco, Kuke. Quello dell'Atletico Madrid. È vero, è vero. Giusto. L'esterno-sinistro. Giusto. Conserviamo tutto. Prossimo pacchetto. Vai, vendi tutto, vendi. Ok, ragazzi. Ragazzi, prossimo pacchetto. Si era stoppata la registrazione per problemi. Vai, sento. Uno. Ma che cacchio. Madò, che schifo. Dai. Uuuh. Di Gualvesh. C'è la doppione. Eh. Crediti. 2000 crediti, ragazzi. 2000 crediti, fa niente. Buono, dai. Eh, di Gualvesh. Quanto viene questo qua? Eh, viene poco. Comandiamo? Scartiamo. Sì. Dai, David. Dai, David. Per favore, David. Se troviamo Alaba, che comunque vale assai. No? Sì. Quanto Alaba? E' assai. No, è 20.000, più o meno. Non lo so. Perché? Uuuuh. Madò. Che età, dai. Ma perché? Cioè, questa è la mia camera. È in mezzo della Sfig, ragazzi. Beh, dobbiamo portare un po' di fortuna. Ragazzi, quando coprò la... Elimina quello là, il 76. No, no, no. Ma è brutto. C'è i denti rovinati. Ragazzi, quando coprerò la webcam, poi avremo chiaramente il gameplay sulla PlayStation con la webcam. Con la FISCAM, a proposito. Dai, questo... No, questo è per te questo pacco. Non è per me, è per te questo pacco. Oh, 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 oh. Che è? Oh. Gervinio. Grande. Vabbè che costa 2.000 crediti, però comunque è sempre 2.000 crediti. E i crediti di nuovo. E i crediti. E i crediti. Ma è sia 2.000, eh? No. 1.000. Questo è obeso, secondo me. Cioè, no, vabbè. E ancora giocare a calcio quelli. Cioè, ci sono giocato quelli che... 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 30 like per questa frase. Ragazzi, prossimo pacchetto. Poi, lo spaccetta lui. Vai, però... Mi giro io, guarda tu. Sì, ma un if in 100.000... No, voglio manco guardare io. Perché noi adesso quando... Un if in 100.000 è 14.000 crediti. Uh! No, ma... Manca un oro raro, ragazzi. Neanche un oro raro. Cioè, assurdo. Cioè, veramente... Che schifo, veramente. Mamma mia, cioè... No, raga. Dai, spacchettiamo un'altra... E uno... 50, 60.000 crediti. Anche di meno. Risparmiamo. Vabbè. Dai, fino a 150.000 crediti, vai. Dai. Questo pacchetto si schippa. No, non si schippa, fa niente. Conco! C'è la testa di velocità. E ce l'avevo, ce l'avevo. Fa schifo. Tutti i doppi uni... Adesso devono trovare. Tutti i doppi uni. Dai. Dai che sta arrivando. Mo sta arrivando il momentum, eh? Si sta avvicinando il momentum. Due if in un pacco, voglio, mo io. Due if in un pacco. Si sta avvicinando il momentum. Dai che stiamo trovando giocatori, diciamo... Molto veloci. Quindi, molto veloci. Ragazzi, adesso... Dai che sta arrivando il momentum. Questa volta, noi... Dai che sta arrivando il momentum. Dai, dai. Ci offendiamo. Non ci credo. Per la terza volta. Non ci credo. Ragazzi, Rami. Per la terza volta. Per la terza volta. No, ora scarto. Guarda questo. Questo vuole fare il culo al Sharawi per la cresta. Ma questo qua non è che vuole fare il culo. C'è i capelli unti. È la mezza del Sharawi. Cioè. E poi è stranzo. Dove va? Abbiamo trovato stranzo? Ok. Vai. Conserviamo tutto. Anche se non volevo... Non volevo stranzo nel culo. Stranzo. Scarto, immediatamente scarto. Via, via, via. Schifo. Rami. Ragazzi, adesso scarterò un pacco con gomito. Sai che mi porterà fortuna? Guardate. Vabbè. Con gomito. Una. Aspetta, che te lo metti. Sistema. Ok. Ok. Vai. Dai. Dai che sta arrivando Gonzalo. Dai, dai. Perrin. Cioè, il cognome di uno che mi passa con me. No, Perrin. 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 Che fa schifo. Cioè, guardate. È solo la difesa. Mamma mia. No, ragazzi. Veramente, è proprio oggi un... Questo portiere sembra... Questo sta in ospedale. Quello di scemo più scemo sembra quello lì. Stai in ospedale questo, ragazzi. Ragazzi, prossimo pacco con la sfiga. Madonna. Dai, Eden. Questo lo scrippiamo. Dai, Eden. Questo lo scrippiamo, eh. Lo scrippiamo. Dumbia. Buono. Di nuovo, Dumbia. Però ho tre giocatori rari. Questo ce l'ho. Vila. Montanest non ce l'ho. Scocco. Dumbia, vendilo. Ragazzi, ci paghiamo altri tre pacchetti che così puoi... Ah, va. Basta. Ma è il negozio. È il negozio. O dobbiamo trovare qualcuno. Va, uno su. Ma che... Veramente. Mamma mia, è il estivo. Un if. Un if. Ti prego. Arrendo io, ragazzi. Il momentum stava arrivando, ma... Il momentum è... Nel gabinettum. Eh. Momentum nel gabinettum. È il negozio, va. Questo pacchetto, dai, Howard. Dai, ragazzi. Dai, Howard. Cioè, non abbiamo trovato niente. Lasciato un like per questo... Salta, per favore. Okua. Ochoa. Ochoa. Perché c'ha ste pronunci? O Fernandez c'ha 5 stelle di skill. È di santo. Di santo? O che ce l'ho? Guarda, sono la maggior parte giocatori. Stranissimo, eh. Fammo mai. No, sta arrivando il momento. Sta arrivando il momento. Dai. Vai, conserva tutto il club. Ok. Prossimo pacchetto, vai. Vai, vai, vai. Vai, Messi. Vai, vai, vai. Devreux. Devreux. Oh. Un pacchetto oro? Oro raro. Oro, oro, oro. Un pacchetto oro gratis. A posto. Apriamo subito il pacchetto 5. Ragazzi, abbiamo... Anzi, no, non l'apriamo ora. Apriamo l'altro. Ragazzi, l'ultimo pacchetto, perché siamo... Così facciamo 150.000 crediti. E mi fermo a 150.000 crediti. E poi apriamo il pacchetto gratis. Ultimo pacchetto da 7.500. Nell'ultimo... Niente, ragazzi. Rami tre volte. Mamma mia. Ultimo pacchetto. Vai. Niente, ragazzi. Morata. Orata. È morata. L'orata di pesce e la morata. Cioè, ma vedi questo. Cioè, questo qua non sembra un allenatore... Questo si sta dicendo... No, non è. Questo qua è un preparatore. Oh, Morino. Però Morino che non canta. Morino... Questo è Morino che gioca al calcio. Che è quello che canta. Basta. Ok. Ragazzi, apriamoci il pacchetto regalato. Ragazzi, pacchetto oro. Vai, 12. 12 oggetti. Ragazzi, pacchetto oro. Lo apriamo. Questo è l'ultimo pacchetto, ragazzi, di questo spacchettamento speciale. 500 iscritti. Vai, girati. Girati. Dall'altra parte. La lana. O la lana, non mi ricordo. La lana. Vedi che forse vale qualcosa la lana. Cioè, fino ad un'altra sera... Questo l'avevano trovato gli altri youtuber e dicevano... Falco. Sentinella. Ci facciamo i crediti con i... In cui si fa che sentinella è quell'altro. Vediamo un po'. Vabbè, la lana... Non si può vedere qua. Facciamo ok. Ok. Basta. Ok. Io ti dico di aprire un altro pacchetto. Giusto, ragazzi. Ultimo pacchetto per YouTube. Questo è dedicato a YouTube. Questo è dedicato a voi. Che state guardando. Lasciate like. Perché dobbiamo fare i fissi? No. Ok. No, vabbè, sto scherzando. Ragazzi, ultimo pacchetto. Proprio perché siete voi. Ultimissimo pacchetto. Ultimo, proprio. Ultimo, ultimo. Stretto, stretto. Proprio veloce. E non lo schifiamo perché non ce lo facciamo. Cassia. Ah, merda di nuovo. Michu. Michu, Michu. Ok. Niente, ragazzi. Sì, ragazzi. Quanti crediti abbiamo? 200.000 sarà? Sì, 200.000. Non abbiamo giocato lì. Niente. Ragazzi, per questo video è tutto. Se volete aggiungere lui sul PlayStation 4, vi lascerò il suo ID sullo schermo. Si chiama Igualboy99. Basta che quando inviate la richiesta scrivete che sono un fan di Alex e così l'accetto. Se avete COD e FIFA. Sì, lui, COD, FIFA, un sacco di giochi potete comunque giocare insieme a lui. Quindi, se avete PS4, vi mette la richiesta. Se volete anche altri video insieme a lui di spacchettamenti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Magari facciamo altri spacchettamenti. Magari quando metterà una dei pacchi più decisi. Quindi, ragazzi, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, condividete il video, like sulla pagina Facebook. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Bella. Ciao, ciao.